Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, video più che altro dove andiamo a ragionare su una cosa su cui io ho già ragionato e ho tratto le mie conclusioni, per me il ragionamento è valido e magari vorrei sapere anche la vostra nei commenti per capire anche voi cosa ne pensate non so precisamente cosa ho scritto nel titolo ma non sono pazzo, adesso ci arriviamo a questa cosa che sarebbe perché CRO ovvero Cronos, la governance di crypto.com per me è più valida di bitcoin soprattutto in questo periodo barra 1-2 anni e vi dico subito perché e perché soprattutto sto investendo anche tanto io sostanzialmente investo in 4 barra 5 criptovalute, investo anche in altre però investo in modo serio in modo con alti capitali soltanto in 4-5 ma forse 6 criptovalute e CRO forse è quella che dovrei su cui dovrei puntare ancora di più perché effettivamente facendo questo ragionamento non fa una piega ho già investito veramente abbastanza, magari puoi fare un video proprio sul mio portafoglio dove vi faccio vedere tutte le criptovalute che ho e su quali credo e questa secondo me è quella su cui possiamo credere di più, il ragionamento che adesso vi faccio è molto semplice mettiamo caso che noi vogliamo investire un capitale di 10.000 dollari in criptovalute adesso faccio un esempio di 10.000 dollari perché magari può fare maggiore risultato ovviamente più alto è l'investimento più alto sarà il guadagno, ovviamente ci può essere anche la perdita attenzione stiamo parlando di criptovalute ma come in qualsiasi investimento non è detto che vada sempre a buon fine e infatti ne approfitto anche per dirvi che appunto parlando di questo non è un consiglio finanziario è assolutamente un ragionamento che ho fatto io che metterò in pratica ma più che altro se lo volete fare anche voi ovviamente ci dovete ragionare, dovete capire il motivo e se ne vale la pena, se non ne vale la pena e metterci quello che siete disposti a perdere. Ritornando al discorso, se abbiamo un capitale di 10.000 dollari da investire in criptovalute, ovviamente al di là della diversificazione diciamo che dobbiamo scegliere una criptovaluta io sceglierei CRO. Perché? Perché ha un potenziale assurdo, diciamo che nel giro di un anno, due anni ma già a fine anno potrebbe raddoppiare, mettiamola così potrebbe arrivare assolutamente a valere un dollaro e qualcosa ma mettiamo caso che arriva anche soltanto a un dollaro noi questi 10.000 dollari che abbiamo messo su questa criptovaluta potrebbero diventare potenzialmente anche 20.000 dollari stiamo parlando nel giro di un anno, possiamo parlare anche a fine 2022, 2023 sta investendo tanto, CRO, magari faremo un video su quel progetto, su quello che c'è dietro, su quello che fanno sul marketing assurdo che fanno perché credo che abbia fatto record su pubblicità assurde su investimenti di marketing appunto veramente assurdi poi magari andiamo a vedere su cosa ha investito, ma vabbè ormai lo sappiamo tutto anche sui mondiali che ci saranno e Crypto.com sarà uno dei principali sponsor veramente assurdo guardando anche i numeri che ha fatto il BNB che è la moneta che ha Binance possiamo capire anche quanto potrà fare anche Crypto.com ovviamente come prezzi non arriverà, il CRO non potrà mai arrivare a valere ad esempio 450 dollari no, però per dirvi se vale 50 centesimi e arriva a un dollaro capiamo che ha raddoppiato quindi diciamo che c'è questa possibilità che questa moneta potrebbe raggiungere questi livelli e farci fare un bel gruzzoletto, far crescere il nostro capitale oltre a questo abbiamo anche la possibilità di metterli staking su Crypto.com stesso e lasciarli lì e guadagnare un 10% anno di interessi mettendoli lì i staking cosa che con Bitcoin non sarebbe possibile se noi vogliamo investire in Bitcoin per ad esempio un anno barra due anni e li vogliamo, sappiamo che comunque li lasciamo lì, li mettiamo in staking non riceveremo il 10%, almeno che non ci sia qualche sito che non conosco ma non credo che ci diano il 10% non ce lo danno né su Binance né su Crypto.com quindi diciamo che già questa percentuale la perdiamo e tra circa un anno barra due anni non credo che il Bitcoin raddoppierà non credo che il Bitcoin arriverà a valere per dirvi 100.000 dollari non credo proprio magari a lungo lunghissimo termine sì però ragionando in questi tempi cioè un anno barra due anni arriviamo alla conclusione che di Crypto.com se ne può fare veramente veramente buon uso cioè ovviamente guadagnandoci il 10% anno e poi magari tra un anno vale anche il doppio si può fare una bella cifra quindi questo è il mio ragionamento ripeto vorrei sapere anche voi cosa ne pensate magari non vi piace CRO non vi piace tutto quello che c'è dietro non vi piace cosa sta facendo non credete che arriverà a questi numeri e quindi dite ok no per me non è così però questo è il mio ragionamento per andare non dico sul sicuro però sapete com'è il mondo delle criptovalute molto volatile e diciamo che CRO rispetto all'anno scorso se noi andiamo ad analizzare anche il grafico di Bitcoin stesso l'anno scorso di questi periodi è andato un po' in un senso diverso magari da come si ci aspettava l'anno scorso però un po' diciamo era prevedibile perché l'anno scorso stava facendo numeri pazzeschi mentre CRO contro tendenza contro mercato comunque fa il suo questo è comunque un altro dei motivi che ci fa capire che CRO ha dell'importanza dietro e niente ragazzi questo solo per dire che io effettivamente incrementerò l'investimento in CRO e magari ripeto magari poi andremo a vedere e dare un'occhiata anche al mio wallet dove mostrerò quali criptovalute ho in quali investo maggiormente ovviamente perché investo veramente magari in tante però le principali ripeto saranno 4, 5, 6 e sono quelle in cui credo veramente di più e credo che in un lungo termine cresceranno tanto niente il video finisce qui giusto un piccolo ragionamento che ho fatto ho detto perché no è così sto sbagliando niente noi ci vediamo al prossimo video